Nei supermercati ci sono interi scaffali sbarrati con quaderni, birocancellabili, colle e bianchetto e tanti altri prodotti di cancelleria che compongono la quotidianità scolastica, merce che non è più possibile comprare perché è considerata non di prima necessità. Ma Francesca Carrà, mamma insegnante della scuola elementare caduti sul lavoro di Piacenza, chiede alle istituzioni di consentirne l'acquisto perché se da una parte la didattica a distanza procede a passo svelto superando l'ostacolo dell'emergenza coronavirus, dall'altra però occorre la materia prima per favorirla. In questo momento la mancanza di materiale scolastico sta diventando un problema non solo nel territorio precentino ma in tutto il territorio nazionale. Come insegnante mi viene chiesto, ci viene chiesto, di proseguire le attività didattiche, di portare a termine gli obiettivi che ci eravamo posti per la fine di quest'anno. Lo stiamo facendo, siamo stati formati a farlo anche in questa nuova modalità di didattica distanza. Ora però i bambini ci dicono maestra sto finendo il quaderno, maestra non ho più la biro cancellabile verde e allora mi chiedo perché in questi decreti emanati finora non è mai stata presa in considerazione per una volta l'esigenza dei bambini? Sono state chiuse le cartolerie, sono state chiusi i reparti nei supermercati che vendono cartoleria, materiale scolastico perché non di prima necessità, non è vero. Per un bambino è materiale di prima necessità. Grazie a tutti, grazie a tutti. Grazie a tutti